In realtà la tecnologia sta cambiando perché è vero che gli operai all'epoca mettevano i sandali per inceppare le macchine perché avevano paura che prendevano il loro posto, in realtà però quel tipo di macchinario non era pericoloso, avrebbe dato un vero vantaggio perché il macchinario semplicemente tesseva il tessuto, faceva delle cose per le quali insomma erano delle cose materiali. Quindi oggi quella che loro chiamano intelligenza artificiale ma che intelligenza non è, ovviamente è una programmazione artificiale fatta da chi? Da chi lo ha programmato? Il grande pericolo è proprio questo, che tramite la tecnologia oggi non si allevia un lavoro materiale di una persona ma gli si sostituisce alla persona il lavoro intellettuale. Ci sono poi le persone che a questo non accetteranno di cedere come noi ma purtroppo c'è molta gente che invece lo fa. Alberto, noi abbiamo veramente una responsabilità enorme noi del mondo della comunicazione per far capire questi concetti fondamentali alle persone. Allora, come al solito applaudo al grande psichiatra, criminologo, teologo, filosofo e sacerdote perché ha affrontato il problema da tutti i lati, l'ha affrontato da tutti i lati, però devo dire che non sono totalmente d'accordo con lui questa volta. Io casualmente mi occupo di questa roba da tantissimo tempo, ho scritto pure un saggio che si chiama McClure, non abita più qui, ho continuato ad insegnare in università importando la mia competenza professionale perché volevo, l'ho già detto varie volte, volevo interloquire con gli studenti e capire come ragionavano le giovani generazioni. Allora, che cosa è successo in questi anni? Io sono uno di quelli che ha contribuito, disgraziatamente, per ridere, alla nascita di Internet in Italia perché avevo allora un'agenzia che gestivo io, che si chiamava, guarda caso, McKenna Interactive, avevamo cliente T-NIT e abbiamo praticamente costruito il mercato Internet in Italia, insegnando agli italiani come si settava a moda, come si mandava la posta, eccetera, eccetera. Quello che ho capito in tutti questi anni, ormai dal 98 ad oggi, quando ho cominciato a occupare questa roba, è che noi abbiamo molta più tecnologia di quella che ci serve. E però tutta questa tecnologia in più ha combinato un sacco di guai perché se noi potessimo fare un grafico, noi scopriremo che si sta verificando una forbice per cui le ricerche e le innovazioni in tecnologia stanno andando moltissimo in alto. Ma il livello di comprendogno, di capacità di capire, di argomentare, di ragionare, soprattutto dei giovani, ma non solo perché adesso sto incontrando anche 30-40 anni, sta andando molto in basso. Quindi c'è una forbice fatta così. Allora, quando adesso arriva questa storia dell'intelligenza artificiale, il pericolo che c'è dietro questa roba va approfondito molto di più. Io ho letto proprio ieri notte un lavoro molto interessante dove uno metteva in questo studio un po' di esperimenti, di dialoghi fatti con l'intelligenza artificiale. Vi assicuro che c'è da farsi venire i brividi perché molte risposte in questo caso erano come se stessi parlando con un individuo senziente e con un individuo che pensasse che prima o poi lui dovesse acquisire più competenze per essere concorrenziali con gli esseri umani. Ma a parte questo, il vero problema che sta dietro questa roba è che noi ci siamo consegnati mani e piedi alla storia delle telecamere, dell'audio, con Whatsapp, con Facebook, consegnando la nostra privacy praticamente per avere in cambio dei servizi gratis. E allora c'è un vecchio principio di marketing che dice che quando qualcosa è gratis vuol dire che il prodotto sei tu. Quindi primo punto. Però non ci siamo accorti che per esempio, c'è un esempio molto stupido e semplice, prendiamo esempio la geolocalizzazione. La geolocalizzazione è una cosa comodissima, io la uso continuamente per andare di qua e di là, ma un tempo dovevi andare in via tal dei tali, aprivi tutto città, guardavi la mappa, ti facevi un'idea e poi ci andavi da solo. Adesso ti fai portare, adesso non siamo più capaci. Quindi quell'area del nostro cervello, addetta a muoversi e a ragionare per farsi una mappa mentale, si sta lentamente atrofizzando. È quello che sta succedendo ai ragazzi. Ma ragazzi vuol dire dai 20 ai 30 anni, io sto vedendo una riduzione della capacità di ragionare, della capacità di riflettere perché, e l'ho già detto tante volte, lo ripeto, era il tema del mio saggio, vivono di frammenti. Vivendo di frammenti non analizzano più niente. Vivendo di frammenti delegano tutto quanto a queste macchine, macchinone, macchinette. Adesso io vi voglio leggere un piccolo pensiero che c'è in un altro saggio che ho scritto, che si chiama la sindrome del criceto, e c'è una tale Carly Kind, direttrice dell'Adda Lovelace Institute in Guitera, che si occupa da tanti anni di intelligenza artificiale, e dice vediamo di non usare la società come banco di prova per tecnologie che non sappiamo ancora come cambieranno la società. Proviamo a riflettere su alcuni di questi argomenti, muoviamoci più lentamente e sistemiamo le cose invece di muoverci velocemente e romperle. Allora, vado alla conclusione di questo mio breve intervento. Allora, a questo punto ci sono da domandarsi, tutto questo armamentario che è in mano, come è stato detto, come è evidente, a una decina di persone, tutto sommato, perché tutte le grandi novità di intelligenza artificiale stanno nelle mani di due o tre addirittura. Comunque stanno in mano i GAFA, stanno in mano i fondi di investimento, siamo al solito giro a Davos e compagnia. Lo hanno preparato conscientemente per anni o la cosa è avvenuta quasi inevitabilmente? Perché adesso quello che stiamo vedendo, se ci occupiamo accuratamente di queste questioni, siamo arrivati al punto dell'apprendista stregone, in cui l'intelligenza artificiale sta assumendo una deriva che certo io sono d'accordo, figuratevi, io sapete, sono un fan di Fagini, siamo amici, ogni tanto ci sentiamo anche recentemente la California, lui continua a dire ma dentro il computer c'è il vuoto e quindi per computer intendi anche l'intelligenza artificiale, non avendo la coscienza di sé, non ha il libro arbitrio, non può capire, non può immaginare, non può inventare. Peccato che funziona in un modo, a parte che è la maniera più semplice, dico ma chi è che ha costruito questo algoritmo, in base a che cosa, in base a che cosa sceglierà cosa dire, ma se andate a leggere un po' più affrontitamente queste ricerche scoprirete che giustamente quello si basa su quello che il mainstream ha detto, su quello che il mainstream ha scritto, sui libri che sono stati rilanciati e quelli che no. A questo punto si crea un circolo vizioso per cui i media rilanciano quello che si vuole che rilanciano, l'intelligenza artificiale ripete ciò che viene ripetuto e a questo punto noi delegheremo quello che è grave, e vi dico due cose, finisco, che già dappertutto i ragazzini si fanno fare i temi dell'intelligenza artificiale, e vabbè, ma l'altro ieri ho appreso da mio caro amico, un ricercatore di fama internazionale della morte improvvisa, che lui e i suoi colleghi le introduzioni agli articoli scientifici, per comodità e per velocità, almeno l'introduzione la fanno già fare a già GPT, perché sono questioni di carattere generale, in un certo senso accreditando un modo di pensare che può essere appunto... Beh, questi tuoi amici dovrebbero cambiare mestiere, adesso persino Schillaci inneggia, che meraviglia, stanno arrivando i vaccini contro i tumori... Adesso ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Quando questo diventa la vulgata normale, è chiaro che l'intelligenza artificiale la rilancerà. Poi c'è l'ultimo aspetto, finisco, l'ultimo aspetto è quello della segmentazione e del rilevamento delle persone. Si parla già di un grande timore per le elezioni 2024 in Europa, ma anche in America, dove sarà tutto stravolto e già si pensa di rimandarle per risolvere prima i problemi legati alla privacy. Ma pensa un po'. Vabbè, comunque queste persone che dicevi tu prima devono cambiare mestiere, perché se fanno fare le introduzioni ai libri, alle cose scientifiche, da un algoritmo, perché io non la chiamo intelligenza, un algoritmo artificiale, cambiassero mestiere, per cortesia, perché sono i distruttori di questo mondo. Prima della pausa però voglio mandare e far vedere a chi ci sta seguendo anche in tv Cristina, che è una nostra ascoltatrice, che ci ha mandato lo screenshot del suo cellulare dove vedi, ci ha messo proprio il nastro adesivo, ha detto già fatto, io l'avevo già fatto e vedi, ha seguito i nostri consigli perché alla sua prova ci tiene e ci ha fatto vedere, proprio sta vedendo Radio Radio dall'applicazione, anzi scaricate l'app, installatevela e guardate da lì perché ve lo portate in tutto il mondo gratuitamente, per sempre, senza gravi costi, eccetera. E Cristina ha già messo il nastro nero sulla telecamera. Brava Cristina.